allora abbiamo qua gianni maritati che vuole invitarvi alla sedicesima festa del libro si tutto oggi sabato 20 febbraio e tutto domani 21 domenica 21 febbraio siamo qui alla sedicesima edizione della festa del libro della lettura di ostia vi aspettiamo numerosi perché abbiamo tanti libri usati ma in ottime condizioni ad offerta libera raccogliamo fondi per l'ant poi conosceremo tanti scrittori editori giornalisti che presenteranno le loro ultime opere e poi faremo un omaggio a due grandi che ci hanno lasciato di recente cioè umberto eco e al per lì poi 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 a bravo a dire a questi contesti con i quali i quali i quali i quali i quali i quali i amici